Allora, qual è la sequenza esatta per non spingere con le mani lo sciacquone negli bagni pubblici e neanche usare e toccare le maniglie per igiene appunto perché le toccano tutti? La sequenza esatta è questa, neanche quindi usare il calcio che poi rompe questi bottoni si prende un pezzetto di carta finale, si strappa appunto, si apre la maniglia e si spinge qui e si butta ecco come si fa, bella